Oh, amici di Bracemi Ancora, se nel vostro ristorante o nella vostra macelleria avete una bistecca grassa, chiamatemi perché io prendo il primo treno, il primo aereo e arrivo per raccontarla al mondo eppure assaggiarla. Dunque, amici di Bracemi Ancora, sono al Beef Bazar a Roma, ristorante dove mi trovo spesso, anche perché sta vicino casa mia. Oggi assaggiamo una bistecca pazzesca, al grido di non è grasso, è sapore, ma non sono solo, ecco me, Paola. Ciao Paola, senti un po'. Paola, grande amica di Bracemi Ancora, grande chef specializzata in carne, grande grigliatrice, grande grigli chef. Quanti anni hai lavorato di fronte a una griglia? Una decina. Dieci anni. Una griglia Brace. 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 Massimo dei coperti che hai fatto in una botta? 110. 110 coperti, così pochi? Così pochi, tu manco tre ne esisti di coperti. A quattro arrivo, a quattro arrivo. Ragazzi, siamo qui per questa, la vedete? Vi voglio far vedere, ragazzi, da vicino, una meraviglia che arriva dal Portogallo. la prendiamo e la tiriamo fuori, ragazzi, che ve la voglio far vedere da vicino. Per farvi intendere, questa è una tomowoc di Wagyu, Australia. Guarda qua il grasso, bianco. Questa è questa razza portoghese che si chiama Marinoa. Io, devo dire la verità, non l'avevo mai sentita. Anche io. Non l'avevo mai sentita. È una rarità che viene dal Portogallo. È molto difficile riuscire a selezionare, a trovare, a far portare qui questa canna, perché tendenzialmente è buona e rimane là. Certo. Ok, bravi gli amici di Beef Bazaar che riescono a far arrivare queste referenze. Ragazzi, quando è arrivata? Sette giorni fa era un lombo di 60 kg? 60 kg. Purtroppo, noi siamo arrivati tardi e anzi siamo fortunati. Meno male, almeno ci mangiamo una bistecca. Però, Paola, ti volevo chiedere, intanto guarda le mie mani, guarda i guanti. No, questo è il grasso che proprio la caratteristica è questa, che anche se questa è ghiacciata, tendenzialmente tende sempre a sudare. Bella, guarda qua. È una caratteristica di questi grassi così. Senti, che ti viene in mente guardando sta meraviglia? Ma che qua il grasso si magna. Cioè, quelli che scartano sto grasso sono proprio da ergastolo, io direi. Tu, che scarti il grasso, ti vedo, ti meriti l'ergastolo con condanna firmata da Paola. Cioè, questa bistecca si prende per il grasso, se no non ha senso, si mangia di un'altra cosa, no? Praticamente, ragazzi, spostiamo il vagu, povero vagu. Guardalo qua, guarda, guarda. Allora, vagu. Fa una brutta figura sto vagu qua vicino, no? Vagu Australia, bistecco di portoghese. Questa è molto marezzata, però questa c'è una grande presenza di grasso giallo. Questo dipende dall'alimentazione, da tante cose. Allora, ve lo dico, ragazzi, come si ottiene un grasso del genere? Un grasso del genere si ottiene da una combo unica, alimentazione dell'animale e ovviamente DNA, perché lì pure madre natura, no? Se tu prendi una chianina, la piazzi dove pascola questa, e gli dai la stessa alimentazione, poi la chianina ti darà sempre il grasso bianco, perché il DNA si ferma. Quindi la combinazione tra il DNA dell'animale e gli allevatori che sono stati bravi a dargli la giusta dieta fa arrivare, diciamo, la bistecca con questo colore. E tra l'altro sta sudando, questo non suda, è fantastico. Quando tagliamo il bisteccone, sarà metà grasso e metà ciccia. Ma forse è più grasso che ciccia. E se tu vedi questo osso, andiamo a mangiare quasi tutto grasso. Ma ragazzi, per mangiare questa carne ci vuole arterie volte, muscoli, e soprattutto pianificare che ve la potete mangiare una volta al mese. E il costo di questa cosa meravigliosa, siamo tra i 120 e i 140 euro al chilo. Ora da Leonardo, che è il grigliatore di Beef Pazar, ci facciamo dire bene il prezzo. A stuputo, giriamo la volta qua, va, tiè, guarda che meraviglia. Guarda, 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 guarda. Sai che sembra? No, ragazzi, guardate. Sembra la pancia di Homer Simpson. Guarda, buon, 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 buon. Sembra la pancia di Homer Simpson. Sì, però questa la birra non la beve. No. Volevo chiedervi, ragazzi, che ne pensate di tutta questa bistecca? Quanti di voi la ordinerebbero? Quanti di voi invece scartano il grasso? Fatemelo sapere perché io combatto una guerra, Paola, Dani, non è grasso, è sapore. Allora, la carne, la bistecca, prendete il petto di pollo. Che sapore ha il petto di pollo? Che sapore ha? Il petto di pollo, è sempre lo stesso, qualsiasi petto di pollo di magno, quello è. Quello è, ok, per dargli lo sprint, ci devi mettere il sale, il pepe, l'olio, le marinate. Nella carne, ragazzi, nel manzo, quello che dà il sapore è il grasso, perché è qua che si concentra tutto quello che l'animale mangia. Non lo scartate, scartarlo è un peccato mortale. Guardate che coste pazzesche, guardate lo spazio che c'è. Fa un po' una disquisizione tecnica tra una costa e l'altra. Se vedete quanto viene una bistecca? Qua una bistecca c'è, ma proprio se ce la fa sottile siamo sui due chili, eh. Secondo me adesso quando ce la fa tagliare, se ce la taglia con la mannaia, qua arriviamo a due chili e mezzo tranquillamente. Qua, Leonardo sta là, porta chi la deve, va. Olè. Vai. Che meraviglia, guarda qua. Allora, fammi così, cominci a tagliarcene anche un fettino di grasso. Ti voglio questo qua interno, guarda un po', che dici? Madonna, sembra pata negra, vero? Sì, sì. Secondo me tu una roba del genere l'hai mangiata in video. Vai, vado. Madonna. Porca miseria. Buonissimo, immagina ricotto questo qua. Tre aggettivi, questo grasso? Intenso, profumato e sa di braccia. Sa di braccia. Sa di braccia. Allora, assaggiamoci questo confettino cotto, senza sale, poi ci mettiamo pure il sale, ok? Un po' di sale, vuol dire che sulla carne, sale è una spezia, esalta i sapori, quindi un po' di sale mettiamocelo sempre, c'è un po' la modo di assaggiare la carne in completa purezza, un pizzico di sale, non troppo. Guarda? Guarda, assaggiamo con sale, con un fettino di grasso, altra cosa. Con sale. Fare maldo, non è vero? No. Maldo, i cristalli del maldo. Ti volevo? Lo completa? Lo completa come sapore? Scusate, termine! Ragazzi, ma questa è una roba da fuori legge è una roba disturbo Guarda, 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 guarda Dio mio, Dio mio, vai, vai, taglia Leo, so 2,6 kg 2,6 kg Praticamente, rapido calcolo 300 euro di bistecca Ce l'hai te? Io lascio il conto al nome tuo Ma chi te si copre? Ragazzi, più la teniamo in mano più il grasso si scioglie Ci facciamo avvicinare, che dici? Aspetta, me la volevo guardare Guardate ragazzi, è una bestia di 8 anni Un toro di 8 anni Guardate il mio dito 3,2,1 Fai rimasta così intatta Che vuol dire? Vuol dire che la frullatura è pronta La carne è pronta e matura Cioè, la vitella non fa così No, rimbalza, rimbalza Esatto, invece, madonna, guarda qua Ci ho messo il dito e rimasta Guarda qua Guarda che cosa, guarda che cosa meravigliosa Il problema, sai qual è? Che secondo me, questa non è una bistecca per una coppia Perché tolta Paola e altre 7-8 donne In giro per l'Italia Dipende di chi è lei Tu hai grigliato per 10 anni Hai fatto 100 coperti a sera Se io dico che questa bistecca è più maschile E un po' meno femminile Dico una stronzata e qualcuno si arrabbia O dico una cosa Generalizzando Io ho fatto questo lavoro per tanti anni Ho cucinato in sala Spesso le donne quando vedono questa quantità E' enorme di grasso Oddio, oddio, oddio Tendono a guardare la linea Non è una bistecca per San Valentino Ma ragazzi, è una bistecca per l'8 marzo Quando se ne vanno La fa agita E noi si mangiamo questa Allora Leo, vabbè, mi ho smesso di chiacchierare Te l'ho praticamente distrutta Te l'ho disintegrata questa bistecca Mi è la colpa Come fai la cottura? La marchio sulla griglia e poi la finiamo al forno Forno a carbone Se no ci fanno un culo così Forno a carbone, vai Dio, guarda che cos'è Sì Maola lo sai quanti video ho fatto nel canale? Più di 200 Più di 200 video dedicati alla carne Ti posso assicurare che io di fronte a certi spettacoli Ancora mi emoziono Vi cerco, ve lo ripeto Ristoratori, macellai di tutta Italia Se c'è una bistecca che canta così Chiamatemi Michele Chioccio Abbracimiancura.com Venga assaggiarla Allora da che partiamo? Partiamo dal grasso Io vado di grasso Guarda qua Ci metto pure un po' di sale Ci metto il sale, guarda che meraviglia Vabbè Questa Gli tocca fare gli antidoping Questa bistecca Rega dai, questo grasso Gli tocca fare gli antidoping Io me lo magno tutto in un boccone solo Ragazzi Siete pronti? Lo devo fare Lo devo fare Lo devo fare perché questa bestia va onorata Questa bestia che noi abbiamo sacrificato Va onorata Vacca vadosca, scorta Ma questa carne fa paura E' buona? Sì Eccola qua La carne La mangio Madre Natura Sei una gran figa Che tiri fuori queste cose Complimenti a Madre Natura Complimenti all'animale All'allevatore Al selezionatore E complimenti a Beef Bazaar Che caccia un sacco di soldi Per andare a cercare la meglio carne in giro per il mondo E offrirla ai suoi clienti Ma hai sentito quanto è succosa la carne? Al di là del grasso Che stiamo assaggiando il grasso Cioè sta carne è proprio succosa Guarda, guarda, guarda Vediamo se nel frattempo Mentre chiacchieravamo Si è freddato Si è freddato? È freddato? È la tua uva, Michele Michele, fai schifo Ma che cacchio hai combinato con questo grasso? Poi ti insegno una cosa Guarda come devi fare Oddio C'ho il vento al stomaco Una cosa molto più semplice Allora guarda Ti prendi la carne Sì Ti stacchi il pezzetto di grasso Così Sì Ok Poi prendi un pezzetto di carne così Sì Ce lo metti sopra così E magni Prova un po' Vedi? Madonna, ma sciotta sempre sto grasso Madonna mia La combo? E la combo funziona, no? La combo è bella riuscita, sì Tende a farti mangiare sempre di più Perché è saporita No, no, ma la carne è strepitosa È uno stufa Non è di quelle carni stucchevoli È una roba... Guarda, è pazzesca Perché il grasso esterno Internamente non ha marezzatura Quindi... Ecco, una cosa da dire Tutto grasso esterno Rispetto al baglio di prima Non c'ha infiltrazioni Marezzature Questa c'ha una corteccia di grasso esterno Pazzesca Ma all'interno la carne è buona E devo dirvi Sta bistecca è tanta roba Tanta tanta roba Una cosa Non è che vi spazzarcelà sempre Questi sono chicchette Che questi selezionatori Questi diciamo Ricercatori di carne Quando trovano Propongono ai migliori ristoranti Però voi chiamatelo sempre Vi spazzarvi Dite i ragazzi Che chicchette avete Perché questa è una roba strepitosa 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 Quindi per me Questa è una bistecca Da ammortarci quanto è buona Proprio inside Questa che avanza Ovviamente ora La spartisce la... La brigata Sì Io ero l'ultima di loro Paola Che ne pensi di questa carne? Ti è piaciuta? Paura Serie A Buonissima Per me pure Champions League Ok Ma io dico sempre seriali Tu dici seriali Sì sì va bene Senti amici mi piace ancora Io ho tutto quello che volevo dirvi Ve l'ho detto La carne ve l'ho presentata Grazie a Leonardo Che ci ha affiancato in questo video Torni a fare i video con me? Vediamo Ok mi piace Paola Perché se la tira Ragazzi Un abbraccio E che l'abbraccio sia con voi Ciao Ciao Ciao